Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Giovanni e oggi siamo su Trollface Quest Horror 2, il secondo capitolo di quel gioco bellissimo che abbiamo fatto l'altra volta e siamo nel secondo capitolo. Ok, vediamo, mettiamo un po' il volume, ma che è la X-Out che accendi e spegni? Non è la X-Out, è Shining, e quindi? Ah, ho perso, ok, e ora? No, non cominciamo con le pubblicità e con i lag. Ah, ok, chiudi, perfetto. Ok, quindi? Ricomincia, certo. Ok, niente. Clicco sulle bambine, che succede? Una puzzetta? Sul serio? Le bambine di Shining fanno una puzzetta? Va bene. Io ovviamente tutto caldo. Ma che è? Ma che è sta roba? Vabbè? Devo fare una cosa su questa? Se si apre la doccia è finita perché c'è quello dietro. Allora che... Cosa? Cosa? E mo? Cosa? No, vabbè, si è trasformata in un mostro, tra l'altro, bellissimo, per spaventare quello. Non ci posso credere, ma voi scrivetevi nei commenti che horror è, non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ma che roba è? Vabbè. Ma che horror è delle piante? Va bene. Che cos'era? Vabbè. C'è chi? No, vabbè, però tutti i cucchiai utilizzano, ma non ti fanno niente. Al massimo tagliano una fetta di carne, ma in vari casi. Quindi? Qualcosa... Se non è qualche giocattolo fa qualcosa. C'è chi fa qualcosa? Oh! Ora sappiamo tutto. C'è chi è drogato. Vero? Bene, ragazzi, ho visto una pubblicità. Che poi, tra l'altro, è bellissima. Che è? Ho vinto! Che roba è? Ma chi è? Ma chi è uno che vede la torta? Che film horror è? Scusi, uno che vede la torta. Scrivetemi nei commenti, ovviamente, che film horror è. Boh. Vabbè, io... Che ci... Si muove la mosca se ci clicco sopra? Va bene, prova a ricliccarci. Che roba è? Posso muovere la mosca se la metto sulla torta? Boh. Io... Boh, la lascio qui. Ma che roba è sto tizio? Ma chi è? Ah, ok. Mo' se la può mangiare come una mosca. Ok. È diventato un mutante, regà. È diventato un mutante. Come è diventato un mutante? Ma io boh, regà. Ok, passiamo. Ma che roba è? Vabbè, io l'accendo. C'è qualcuno? Ma chi è sto scemo? Chi è sto qua? No. No, ma che... Ma poi tra l'altro balla la samba. Balla la samba. Balla la samba. Balla la bebe. Bimbere, bere, bere. Bure, bere, bere. Tra l'altro compare anche... Vabbè. Vediamo. Vabbè. C'è la musichetta e non compare. Vabbè, sta allargando. Usa indizio. E quindi? Eh? Oh! Con le ombre cinesi lo fa diventare un mostro per farlo spaventare. Ma dai, che genialata. Vabbè. Vabbè. Certo. Questo sarà un horror. Scrivetelo nei commenti. Se non lo sapete non fa niente, ragazzi. Vado a fare una piccola ricerca. Scrive su Google. Horror con lo schermo fatale. Ok? Schermo fatale. Tra l'altro. Vabbè. Vediamo. Adesso chi è? Ma che è sto horror? Un che si chiama Black Friday. Uno che si chiama Black Friday. E quindi ci sono gli sconti. Quindi? Posso muovere le pantofole come la mosca. E quindi? Quindi? Dove le metto? Al piede. Al piede. Vai qua. E dove gliele metto? Sulle capelli. No! Forse ho capito. È Jason. Perché assomiglia alla maschera da hockey. Se la mette posto nella maschera da hockey. No! Ma che genialata! Questa l'ho capita. Dai, ma è micidiale come gioco. È Jason. Questo è nightmare. Lo sapevo già. Vai. Vai. Riscalda il marshmallow. Quindi? Che devo fare? Ho cliccato a casaccio? E quindi? Ah, perché è come lui. Che furbità però dai. Questa è tutta furbizia. Ma dai. Raga, ho messo la facecam perché mi andava di metterla. Ok. E mo? Che? È il nan. No, già era prima era il nan. Nell'altro episodio. E quindi? Ok. Ma diè? No, vabbè, regà. Il jumpscare. Crollo dalla sedia se lo rivedo un'altra volta, regà. Crollo. Ma che è sto horror? Sarà The Conjuring. No, no, voglio fare qualcosa. Se clicco sulla faccia, no, niente. Vabbè. No, no, no. Mamma mia, sta vecchia. I morto, eh, non lo posso dire. Scusate. Usa indizio. Prezzvecchia. No, 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 no. Non va. Mi stanno pagando. No. Vai, premila. Vai. Si è spenta l'altra candela. È impossibile. È impossibile. Che deve comparire. Niente. Che deve comparire. Non deve comparire un cacchio. Ah, pure le pubblicità, Harry Potter. Guarda un po'. No. Vabbè, io... Io mi evito un po' il tutto. Ma chi me l'ha fatto fare? Usa. Premila, vecchia. E vai. Ma non ci posso credere. Premo. Sto consumando gli indizi. Niente. Allora, qua. Premo qua, eh. Niente. Si spegne la luce. No, niente, regà. Niente. Niente. Non funziona niente. Funziona. Tra l'altro, che belle mammelle che c'è, zia. Ai. Dai, però. Sto premendo da tutte le parti. Ma sbuga. Che cos'è? Satana. Ma che è sta roba? Il diavolo. Il peggior nemico delle suore. Ecco perché. Oh, è arrivato. Grazie. Padre, figlio, spirito. Sant'Amen per distruggerti. Eh, però quanto lagga. Pure la registrazione. Guardiamo le pubblicità. Ah, ma questa non è una pubblicità. È la X. C'è subito la X. Va bene. Dracula, lo sapevo. Guarda. E mo? Vai. Che devo fare, mo? Ma che roba? Perché ci sono allungati i denti? Un tricheco? Sul serio? E mo? Ah, gli do da il pesce. Ok, perché sennò che ci sta a fare quello là? Sta guardando i miei video internet. Non li magna. Lo sapevo. Che carina la foca, però. Cioè, diciamo. Che bella la foca. Eh, lo squalo! Sì, bravo. Con la mascherina si sta in questi tempi. Ho premuto quello a caso, però... Io ho riparato i denti. E così ti mangia meglio, frate. È sbagliato, eh? Però ride. Va bene. Direi che lo squalo è stato una genialata, eh? Per... Farlo. Va bene. Io direi di passare all'ultimo livello, così farò anche la seconda parte. Perché, raga, è durato troppo sto video. Dieci minuti e ventinove. Direi di fare l'ultimo livello e che poi lo continuo nella seconda parte. Ok, hit. Che figata! Hit! Perfetto! Che faccio? Ho scoppiato un palloncino. E sta venendo qui da me. Che faccio? No, no, il jumpscare no. Pensavo fosse il jumpscare. Invece era risata. Vabbè. Vabbè, mo? Faccio scoppiare questo... L'ho sporciato di melma! Rido io! Non ridere, tu! Hai capito, hit? Vabbè, infatti, ci vuole pure la pubblicità per sbloccarlo. Bene, ragazzi, direi di concludere qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lascia un piacere, iscrivetevi al canale. Ciao, ragazzi!